Arancio al procuratore Capo di un volumbre dove c'è il bucino di Gaonce che un attimo fa ha avuto modo di riapprezzare visto che il museo l'ha già visto qualche tempo fa. Grazie a voi. In ogni caso io starò qua perché farò qualche riflessione e considerazione. Mi sarebbe piaciuto che queste considerazioni e queste riflessioni ascoltasse pure il procuratore, ma non si muove tutto davanti a te. Grazie. Grazie. Allora cerchiamo di avvenire la domanda dove la provincia di Salerno non la portiamo, mentre sono una provincia, ognuno ha caratteristiche diverse e con un problema nazionale. Grazie. 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 Grazie.